A me le donne mi stanno distruggendo, la devo smettere. Sì, certo, direttore, capisco. Avrei solo bisogno di un altro po' di tempo per pensarci. Mi capisce, no? Non vorrei commettere direttore. Fermina, hai una ragione. È un investimento importante. Ma ciao. Carlo, ma dai, non ci credo, non mi riconosci. Ma sono Paola. Dai, Paola Baldini. Ma Paola... Buongiorno, direttore. Buongiorno. Paola, come sei cambiata? Il meglio dico, eh? È che proprio non ti avevo riconosciuto. Beh, tu invece non sei cambiato per niente. Ma li conoscete già, quindi? Eh, sì, 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 certo, anche se non ci vedevamo da tanto, no? Da quanto, Carlo? Una ventina d'anni? Eh, sì, dai tempi del liceo. Piacere, io sono Roberto, collega e miglior amico di Carlo. Ma comunque questo signore, guardi, è proprio un segno del destino, eh? Perché lei non sa che il signor Manetti è il nostro miglior consulente in campo di top investment. Ah. Ora, il migliore... E' bravo e modesto il nostro Carlo. Grazie. Grazie a tutti.